Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lobb, come sempre dal Minerva Studio, bravissimi! E stasera ti faccio vedere come mixare una voce trap su un beat con una catena da pro con soli 3 plug-in Ebbene sì, solamente 3 plug-in Ma lo vedremo dopo la sigla, vai con la sigla, resta con me mi raccomando Ti caccia la hate, ti caccia la hate Stasera voglio farti vedere come trattare una voce con una catena pro però utilizzando solamente 3 plug-in Partiamo subito con l'ascoltare il nostro materiale, quello che ovviamente ci arriva in studio No forte non ci fuggi, no forte siamo scaltri, vediamo i fatti corrotti, corriamo il dopo degli altri Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi noi scendiamo a patti, restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati Il nostro nemico è dentro, vinciamo prima della battaglia, ricordaci il nostro intervento Ok, allora, prima cosa che faccio io e che anche tu dovresti fare in ogni traccia è quella di andare a risolvere i ringing point You have to fix the ringing point first of all Understand me? Bravissimo, mamma mia, scendere inglese Allora, la prima cosa da fare dobbiamo andare a risolvere i... come caccio si dice? Come si dice? Le frequenze di risonanza, ma in italiano non mi veniva in mente Le frequenze di risonanza E perché è importante risolvere le frequenze di risonanza all'inizio? Perché devi capire che se tu non fai questo, quest'operazione all'inizio Poi man mano che tu vuoi aggiungere plug-in, quale per esempio compressori, saturatori multibanda, riverberi, eccetera, eccetera Naturalmente il tutto viene amplificato Quindi quella che prima all'inizio era una frequenza di risonanza che poteva non dare fastidio Con il passare del mixing può venire fuori in maniera troppo spropositata e quindi deve intervenire dopo Però, perché non farlo prima? Per cui, prima cosa da fare, risolvere i ringing point Come faccio a risolvere i ringing point? Dal mio punto di vista la miglior cosa che tu potresti fare è utilizzare un equalizzatore dinamico e non un equalizzatore statico Perché l'equalizzatore dinamico segue un po' quello che è il flow della performance Seguendo il flow della performance non vai ad inficiare troppo sulla musicalità del pezzo Invece l'equalizzatore fisso sta là e taglia anche quando non dovrebbe tagliare Capisce che questa cosa è un po' limitante Perché se non deve intervenire, perché intervieni? Ok? Quindi molto semplicemente vai a trovarti O affondiamo con l'ammiraglio Il ringing point vedi Siamo come una montagna Questo è uno Poi c'è il due Come fai capire che è un ringing point? Vedi che c'è questa sorta di fischio ad anello che ritorna Senti proprio che dà fastidio Ok e questa è la prima cosa che devi fare Ovviamente utilizzo un equalizzatore multibanda Vabbè ma è dinamico, parametrico non mi veniva Prima operazione Andiamo a risolvere i problemi Togliamo il ringing point Corriamo dopo degli altri Seconda operazione da fare E Ah sono quattro i plug in non tre Vabbè Uno l'abbiamo abbonato Allora Seconda operazione da fare E' quella di andare a portare la voce Nella giusta posizione Rispetto alla base Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso Io ero abbastanza soddisfatto Della compressione Delle equalizzazioni della voce L'unica cosa che volevo in più Era semplicemente portarmelo un po' più in faccia Non c'è secondo me ancora sul mercato un miglior plug in Che è l'Arvox per fare questo lavoro qua Cioè l'Arvox quando devi portare qualcosa in faccia E allo stesso tempo devi anche dare un po' di potenza in più L'Arvox è spettacolare Anche l'Arcomp però l'Arcomp serve un po' più Per andare a portare in faccia Questo qui invece ti dà la presenza Che te lo porti in faccia Ma allo stesso tempo ti dà anche il corpo Con un po' più di gain Sappiamo cosa fanno i piani alti Quindi noi scendiamo a patti Restiamo liberi e endomati Focalizzati e disciplinati Eh cioè è assurdo Un dB e mezzo di compressione Proprio leggero Giusto che mi va a trattare i picchi E però mi tiene sempre la voce Costantemente ferma lì Facciamo una B Il nostro nemico è dentro Vinciamo prima della battaglia Ricordarci il nostro intento Vedi così si perde totalmente la voce L'abbiamo perso Affondiamo con l'ammiraglio Siamo come una montagna Boom Ora la voce è in faccia Perfetto È nel posto giusto dove noi vogliamo andare a lavorare E quindi da questo punto in poi possiamo andare a lavorare Ora Channel Strip SSL E Channel Questa è una console che emula la fantastica SSL E Perché ho utilizzato questo equalizzatore Molto semplicemente perché mi piace il colore che dà l'SSL Alla traccia E quindi a me piace variare tra Gli equalizzatori Digitali E gli equalizzatori e le macchine vere Poi dipende anche da che tipo di stile di mix uno deve fare Vuole fare un mix un po' più colorato Vuole fare un mix un po' più trasparente Verso dove è orientato il mix Se è un pezzo Se è un progetto street Oppure un progetto ufficiale Ok Tutte queste scelte ovviamente vanno A A costruire quello che è il suono del disco Quindi A prescindere da tutto questo Le scelte che tu fai Sull'uso dell'equalizzatore Principalmente riguardano Come a te piace che suoni l'equalizzatore No parlamo di chià Non è che ci sono tante altre cose Da poter scegliere E che cosa ho fatto molto semplicemente Ho tagliato 2dB nella parte bassa Lo vedi Un Intorno ai 185Hz 2dB Per andare a dare chiarezza A togliere un po' di fango Poi ho Tirato giù 1.4dB Intorno ai 3500 Questo qui Sui 3500 Lavora In maniera particolarmente Bene Però Se si va a togliere Piuttosto che aggiungere Ti faccio ascoltare Guarda Se io vado ad aggiungere Il vento tira e non ci piega L'epoca scende e non ci bagna Vedi Mi tira fuori un effetto un po' telefono Quindi Se invece La croce salda sulla schiena Uff Ovvio mi Mi va a smussare la voce Perfettamente Poi ho dato 2dB Intorno agli 8k Gli 8k di questa console Sono veramente bellissimi Ti tira fuori L'apertura Della voce La chiarezza Però mi raccomando Stai molto attento Quando vai a trattare La parte alta Perché è vero che ti tira fuori L'apertura La chiarezza della voce Ma allo stesso tempo Ti tira fuori Anche la durezza L'arsh L'arshness Come dicono gli americani L'arshness Attenzione eh Quindi Be careful No forte non ci fotti No forte siamo Poi ho dato un po' di compressione Qua Giusto un po' Per andarmi a tenere la voce Musca altri Vediamo i fatti corrotti Corriamo il doppio degli altri Sappiamo cosa fanno i piani alti Quindi non scendiamo Boom Vedi? Voce Bella in faccia Più chiara Abbiamo tolto quella parte di low end Che dava un po' di fastidio E questo è il risultato Fatti Restiamo liberi e indomati Focalizzati e disciplinati Il nostro nemico è dentro Boom E per finire Ho colorato un po' la voce Con Questo Saturatore Il Satur Famosissimo Beh il Satur Non c'è bisogno Ho presciato 30 miliardi di volte Sia qui sul Sul canale Che Nei 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 programmi privati Il Satur è un po' come il prezzemolo Lo si mette sempre dappertutto Perché effettivamente È un plugin che Suona Veramente bene Cosa ho fatto molto semplicemente Proprio per andare a chiudere il pasto Visto quando tu mangi Primo, secondo, terzo Proprio ci vuole il limoncello finale Che Vai a chiudere il pasto Oh L'amaro del capo Non lo so Che amaro vi piace a voi Io essendo calabrese Preferisco l'amaro del capo Che cosa Che cosa ho fatto Ho messo proprio Un po' di saturazione Valvolare Per andarmi a tirar fuori Quello che è il colore Delle valvole Che è proprio Quel colore Che hanno le valvole Vincendo Vincendo prima della battaglia 3% Clean tube Mi raccomando Ma mi raccomando Dipende dal tipo di colore Che tu vuoi ottenere In questo caso Volevo una colorazione Un po' più trasparente E allora ho utilizzato L'algoritmo Clean Ricordarci il nostro intento O affondiamo con l'ammiraglia Siamo come una montagna Il vento tira e non ci piega Giusto il 3% di saturazione Che gli va a dare Quel colore valvolare Bello La croce accende Non ci bagna La croce salda Sulla schiena Sembra che così Abbiamo utilizzato Un pre valvolare Un microfono valvolare Per catturare la voce Ok E questo qui Si apre proprio Un discorsone Che non ho proprio voglia Di fare ora Anche perché Non è il momento Però Sul come Bisogna Ricostruire Il colore digitale In Il colore analogico In digitale Vabbè Lasciamo stare Sono cose complicate Voi non potete capire Ok Poi Room No frate non ci fuggi No frate siamo scaltri Vediamo i fatti corrotti Room Many Moroccan reverb Cosa ho fatto? Ho Room Vedi? Lo small Perché ho scelto una room? Perché Il flow Di questo Di questa performance È molto veloce Quindi Se tu vai a prendere Un riverbero Lungo Un riverbero Ampio Aperto Quale può essere Una hall Una chamber Un plate Un space Vai a perdere L'intellegibilità Delle parole Essendo un flow Molto veloce Se fosse stato Un flow cantato Allora Le cose sarebbero Stato totalmente diverse Però Tieni in mente Quando devi dare spazio Ad un flow Cantato Rappato veloce Usa Degli ambienti corti Quindi Room Small Time 83% Predelay Intorno 29-30% Ho tirato giù Un po' Di basse Ho dato Un po' Di medie E ho tirato Giù Un po' Di alte Per Andare a ridurre Quell'effetto Delle S Ecco Che non era proprio Il massimo Molto corta Corriamo Il doppio degli altri Vedi Giusto che mi va a dare Quel senso di spazio Dietro Ovviamente Con il beat Sappiamo cosa fanno i piani alti Quindi non scendiamo a patti Uff Mi fa amalgamare bene la voce all'interno del beat Poi chiaro che qui non avendole separate del beat Vabbè però Giusto l'esempio era per la voce Poi Per chiudere In balesa Abbiamo messo Uno slap delay In Un ottavo Dot Puntato Che fa questo movimento Restiamo liberi e endomati Focalizzati e disciplinati Il nostro nemico è dentro Vinciamo prima della battaglia Ricordarci il nostro intento O affondiamo con l'ammiraglio Affondiamo con l'ammiraglio Ok Gli va a dare Raglia 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 Tento 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 Ci va a dare quel movimento Che si fa Ehi Bounce Bam Bam Ehi Bounce Ok E' la cosa interessante Però Qui Vabbè con il delay potete fare tante cose Potete automatizzarle E quant'altro Ma in questo caso Rispetto al flow Che c'è Non per forza Devevo automatizzarlo Chiaro è però Ragazzi Che se voi Lasciate Il feedback Per esempio Dovete trovare Il giusto Il giusto punto In cui Il feedback precedente Non va a finire Sulla parola successiva Se non volete fare questo Automatizzate Il delay E buonanotte Però a volte Più veloce Giocare un attimino Col feedback Corriamo Dopo degli altri Ok Ho Equalizzato Qua Ho tolto un po' di bassi Ho tolto un po' di alte Per dare un po' l'effetto telefono Molto aperto Come effetto telefono E la cosa interessante Che vi dicevo E che ho mandato Il delay Nello stesso riverbero Quindi Questo è il delay La mandata del delay L'ho mandato Nello stesso riverbero Della voce Questo E' una cosa Interessante Perché Così facendo Io ho mantenuto La stessa continuità Che c'è Tra lo spazio Della voce E lo spazio Del delay Quindi Il tutto Assume Un aspetto Molto più Coeso E coerente Fra di loro Si può anche utilizzare Un riverbero diverso Sì Per creare Delle cose particolari Perché i due spazi Vengono totalmente Sconnessi Ma Se tu vuoi dare Coerenza Alla traccia Un consiglio Che ti posso dare E' quello di andare A utilizzare Lo stesso riverbero Con cui tu Effetti La lead La lead In questo caso La lead E' la voce Lo stesso riverbero Con cui tu Effetti La voce Lead Allo stesso Modo Gli fai passare Dentro I delay Quindi A B Nota proprio Il colore Che ha preso La voce Bene E anche Per stasera È tutto Hai visto Come fare Come mixare La voce Trap Con Tre plug-in In realtà Sono quattro Vabbè Facciamo che questo qui Non lo consideriamo Uno lo abboniamo Con Quattro plug-in Spero che questo video Ti sia stato utile Fammelo sapere Qui nei commenti Se è stato utile Fammi sapere Che cosa ti sei portato Veramente a casa Da questo video Qual è stata la cosa Che proprio non pensavi Di dover fare E fammi sapere Se ci sono anche Altri argomenti Che volessi Che io portassi Qua sul canale Che io sarò Molto felice Se sono ovviamente Richieste sensate Di poterne parlare Inoltre Se vuoi approfondire Questi argomenti Di mix Master E tutto il resto In descrizione Trovi il link Per accedere ai miei Percorsi personalizzati Clicca sul link Fai tutta la procedura Poi alla fine Arriveremo ad una chiamata Ci faremo una chiamata Cercheremo di capire Come possiamo aiutarti Eccetera eccetera Se invece Vuoi imparare A mixare In particolar modo Il genere Drill Perché Capisci bene Che ormai La drill Sta prendendo piede Cioè E secondo me Un ingegnere Che adesso Si approccia A questo nuovo mestiere Devi imparare A mixare A drill Ho fatto un workshop Apposito In cui ti insegno Proprio tutto ciò Che c'è da imparare Solo E esclusivamente Sul genere Drill Trovi in descrizione Anche il link E se invece Sei un artista Che cerchi Un ingegnere del suono Che vada a finalizzare Quello che è La tua produzione Vada a mixare Quello che è Il tuo lavoro O semplicemente Anche cerchi Uno studio Che Vada a realizzare Quella che è la tua idea Non del Minerva Studio Con i miei produttori Facciamo anche questo Portiamo la tua idea Nel concreto Dalla produzione Alla distribuzione E in descrizione Trovi anche il link Per accedere A questo servizio Io ho detto tutto Da Mr. Lobb E dal Minerva Studio È veramente tutto Ci vediamo alla prossima Ciao